Se stai riscontrando problemi riguardo alla disconnessione, proprio che ti fa disconnettere dall'account, quindi proprio per esempio ti fa proprio uscire dal gioco perché non sei connesso al tuo account Activision oppure non sei connesso proprio a nessun account, quindi vai direttamente sul sito che ti ho lasciato in descrizione della pagina ufficiale, questa qua, vai direttamente sul login, accedi direttamente con le tue credenziali di questo account qua, fai direttamente io non sono un robot, accedo, una volta fatto va direttamente su profilo, se tu avvi il gioco attraverso la piattaforma Steam e ti fa disconnettere da qua, puoi semplicemente collegare il tuo account Steam su questa pagina qua, oppure se stai giocando sull'applicazione battle.net account basta che connetti il tuo account, per esempio collego così il mio account battle.net mi faccio inviare il codice per via email, aspetto così che mi arriva il codice, una volta arrivato il codice lo metto qua, connetto una volta fatto clicco qua sopra su link account, faccio continua, vado così a connettere il mio account battle.net qua mi dice che non è un altro, quindi è connesso un altro account al mio Activision quadrico, Call of Duty, ovviamente collegare l'account si fa in questo modo, però a me dice che è connesso un altro account, quindi in questo caso devi fare così, per non avere sempre problemi di disconnessione dell'account su Call of Duty, semplicemente ti connetti sul tuo profilo, dalla pagina ufficiale di quelli di Call of Duty e hai fatto, poi vai di nuovo sulla tua piattaforma e prova di nuovo ad avviare il gioco. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!